NET, sfide e opportunità per il futuro lavorativo dei giovani nell'era digitale. Questo è il titolo del secondo seminario del progetto Hub Giovani Generazione 20.20 tenutosi a Napoli, cui hanno preso parte istituzioni e personalità dell'ambito scolastico e formativo che hanno dialogato con 45 ragazzi sui temi del lavoro e dell'uso del digitale a supporto dei giovani. Siamo noi che dobbiamo andare verso i ragazzi, i amici di Peter Pan lo fa, bisogna cercarli nei luoghi di aggregazione dei ragazzi stessi, attraverso il passaparola, nelle scuole. C'è un immenso cantiere a Napoli, come Presidente di Coni Bambini so che questo cantiere funziona, certo con molte difficoltà tra alti e bassi, però funziona e questa è una delle realtà che funziona. Questa è un'iniziativa molto importante, che oltretutto è veramente nelle corde dell'assessorato alla formazione professionale, il mio assessorato, perché occuparci di giovani, occuparci della loro formazione è davvero un compito esaltante. Anche perché per me formazione è anche trasformazione, riuscire a cambiare la vita delle persone, riuscire a far scoprire ai ragazzi i talenti, le loro vocazioni, penso che sia quello che un'istituzione deve fare. Io conosco amici di Peter Pan dal 2016 circa, quando loro intervenivano nel ITIS Ferdinando Caliani. Ho cominciato con il progetto Sogni e Bisogni Giovanili, che mi ha permesso da lì iniziare una carriera lavorativa, anche se non è stata costante, ma comunque mi ha permesso di sfruttare ciò che ho imparato e metterlo sul campo.